Vedere dei film è sempre più raro, avere scene da ricordare, da portarsi dentro non ci sono più, però proprio per questo occorre seguire la passione, la passione propria e la passione di quelli che ancora dedicano il loro tempo e le loro energie a raccogliere le cose migliori che trovano nel mondo e a farcele vedere. Cortodoico è una di queste, l'ho conosciuti, so quello che dico.